Buongiorno e bentornati a Medicina 33. Il problema che riguarda moltissime donne è la cistite. Perché vengono le cistiti? Perché ad alcune donne vengono più spesso? Soprattutto come curarle e prevenirle. Di questo parliamo con il nostro ospite in studio di oggi, il professor Gabriele Antonini. Buongiorno. Buongiorno, grazie per la invita. Urologo, Università La Sapienza di Roma. Parliamo di cistiti, un argomento che interesserà moltissime donne. Perché, professore, direi che il 99% delle donne almeno una volta nella vita ha sofferto di cistite. È giusto? Assolutamente. La cistite è l'infiammazione della vescica urinaria che è il fisiologico contenitore delle urine sia nell'uomo che nella donna. La donna risulta maggiormente affetta da questa sintomatologia, da questa condizione patologica per la conformazione anatomica. L'ano, essendo molto vicino all'uretra e alla vagina, permette una migrazione molto più rapida rispetto all'uomo di batteri di origine intestinale. Primo tra tutti l'escherichia coli, che è il germe più frequentemente riscontrato all'esame batteriologico delle urine. Però questo non è l'unica causa della cistite nelle donne, giusto? Beh, ci sono anche altre cause. Questa è la più frequente, la causa di origine intestinale. Poi ci sono le contaminazioni con i rapporti sessuali, i problemi anche di scarsa igiene da contatto. Ci possono essere nell'uomo problemi di ritenzione urinaria nel caso dell'ipertrofia prostatica benigna. Quindi un mancato svuotamento della vescica determina un'infiammazione della stessa. Ecco, questo nell'uomo naturalmente, invece nelle donne abbiamo detto l'altra causa. Anche quindi però in caso di rapporti sessuali, ma non soltanto però per un problema di contaminazione batterica, o no? Beh, diciamo fondamentalmente la contaminazione batterica è il primo vettore della cistite. Anche dei rapporti particolarmente traumatici, essendo la parete vaginale anteriore a stretto contatto con il trigono vescicale, una sollecitazione importante durante i rapporti può irritare in modo importante la vescica e determinare una sintomatologia dolorosa nella donna. Ecco, in questi casi che cosa si può fare? Cioè quando si soffre di cistite? Allora, naturalmente ci sono gli antinfiammatori, ci sono gli antibiotici, ma soltanto questo? Diciamo che fondamentalmente il primo approccio è sempre un approccio sintomatologico. Effettuare un esame delle urine con l'urinocultura permette di individuare il germe che ha determinato il problema di infezione e quindi una terapia antibiotica permette di curare. La cosa importante non è tanto curare il sintomo, ovviamente nel primo approccio è fondamentale, ma curare la causa. Nella maggior parte dei casi la causa è intestinale, quindi regolarizzare l'intestino, assumere dei fermenti lattici e cercare di prevenire in tutti i modi quelle che possono essere le noxepatogene che determinano poi il problema vescicale. In buona sostanza le donne che soffrono di stitichezza vanno incontro a cistiti più frequentemente? Assolutamente sì, stitichezza, problemi di colite, sono tutte condizioni che possono determinare in modo ciclico e ripetitivo problemi di cistite. In più, quando c'è un abbassamento delle difese immunitarie con il ciclo mestruale, questa cosa ancora di più può determinare un problema di infiammazione della vescica. Quando si hanno molte recidive, che cosa bisogna fare? Perché continuare a prendere antinfiammatori e antibiotici comincia a diventare un problema. Come le ho detto, bisogna regolarizzare l'intestino, questa è la prima cosa. In più si possono fare delle terapie rigenerative a livello dell'urotelio, che è il tessuto di rivestimento della vescica. Abbiamo oggi dei nuovi farmaci che possono essere instillati in regime ambulatoriale dentro la vescica. Sono dei farmaci che contengono dei glicosaminoglicani, che sono praticamente dei normali, dei fisiologici protettori della barriera vescicale. Questo acido ialuronico insieme al condroitin solfato possono essere instillati nella vescica e creare un film protettivo all'interno della vescica stessa. Questi sono degli interventi che si fanno a livello ambulatoriale oppure sono tipo chirurgico? Assolutamente, sono delle procedure ambulatoriali. Un tempo, fino a qualche anno fa, venivano effettuate con l'ausilio di cateteri endovescicali che essi stessi potevano determinare problemi di infezione e infiammazione. Adesso esistono dei piccoli dispositivi che, appoggiati sul meato uretrale, permettono l'instillazione di questi farmaci dentro la vescica senza nessun traumatismo. Ultima domanda. Le cistiti non sono tutte uguali, come abbiamo sentito. Poi esistono anche le cistite, quelle emorragiche, quelle mettono anche un po' paura. È giusto? Bisogna allarmarsi? Assolutamente non bisogna allarmarsi, però l'ematuria è un sintomo molto molto importante che non va mai sottovalutato. L'emissione di sangue con le urine va sempre indacato con degli esami strumentali. Basta una semplice ecografia per escludere che ci possa essere un problema oncologico da non trascurare. Certo, da non trascurare, però può essere anche semplicemente un problema di infezione? Potrebbe essere, però una semplice indagine comunque permette di fare una prevenzione molto molto efficace. Assolutamente, grazie. Grazie a voi. Grazie professore. Con questo vi saluto, vi ricordo come sempre la nostra email sentimedicina33.it Potete scriverci le vostre domande ogni venerdì dalla pagina Facebook del Tg2, un esperto risponderà. Arrivederci con Medicina 33. Grazie a tutti.